Pazienza, devo andare avanti, ma non discuteremo ancora, Avvocato Prado. Lei dice che il povero cospito, i mafiosi, possono vedere una volta al mese i familiari, eccetera. E le vittime della mafia, che hanno perso i loro uomini, le loro mogli, che cosa devono fare per parlare con questi? Ce lo mettiamo in testa o no? O siamo sempre, unicamente, in un'unica direzione? Lì per garantismo, lì per garantismo. Vogliamo andare lì? Glielo va a dire lei? Glielo va a dire lei? Ai figli di Borsellino? Con chi devono parlare una volta al mese? Secondo il loro padre? Ai cinque, alle famiglie della scorta massacrati da Borsellino? Quelli di Falcone? Glielo va a dire lei con chi devono parlare una volta al mese? Questo è il punto, questo è il punto.